L'ecobiopsicologia è un approccio multidisciplinare, un metodo psicoterapico che richiede studio e applicazione e fornisce però al terapeuta la possibilità di comprendere il proprio paziente a 360 gradi, non solo attraverso la lettura degli aspetti psicodinamici derivanti da una curata raccolta anamnestica, ma soprattutto grazie ad una lettura simbolica dei sintomi corporei e del corpo in generale in tutte le sue manifestazioni. Collaborare con la propria scuola di specializzazione, anche dopo aver terminato la propria formazione curricolare, è un'opportunità di crescita professionale che permette di approfondire sempre di più il metodo e anche le proprie conoscenze e aiuta a inserirsi nel mondo del lavoro.